Allora, ricchezza e conoscenza di sé. Avere più tempo e denaro, che per comodità chiameremo ricchezza, ok? Perché nell'età del ferro la parola ricchezza richiama immediatamente la quantità di denaro, no? E quindi di cose materiali. Ma in realtà stiamo vedendo nell'età dell'oro che tutto è tutto, quindi io sono ricco di tutto. La ricchezza è qualsiasi cosa, non è solamente i soldi. Come l'amore non è solamente nella coppia, come si crede nell'età del ferro o nella famiglia, ma l'amore è dappertutto. Tutto è amore, no? Tutto può essere un'esperienza di amore, così come la ricchezza. Però stasera parliamo di tempo e denaro, quindi usiamo la parola ricchezza per intendere tempo e denaro. Allora, avere più tempo e denaro non è un fine, ma un mezzo per l'individuo che vuole conoscere e sperimentare se stesso. E questo nella, nella, in questa introduzione che abbiamo sentito è già accennato, no? Siamo qui per godere ed evolvere e la ricchezza gioca un ruolo determinante. Godere, energia femminile, evolvere, energia maschile. Sono sempre queste due energie che devono combaciare. Ricchezza e amore. Anche qua andiamo veramente a creare una nuova, un nuovo concetto, una nuova società, una nuova umanità. Perché la ricchezza, i soldi abbinati all'amore non è un concetto normale. Giusto? Adesso per noi sta diventando pane quotidiano, no? Però vi posso garantire assicurare che per la gente normale il denaro non c'entra niente con l'amore. Cioè cosa c'entra i soldi con il fatto che io amo mia moglie? Perché si fa questo, questo confronto, no? Esistono diversi modi per ottenere ricchezza. Tuttavia solamente uno è quello che funziona più di ogni altro, sia in termini di quantità di denaro acquisito, sia in termini di longevità. Cosa vuol dire? Di durata nel tempo. Ovvero migliorando la vita del prossimo. Se nell'età del ferro gli uomini più ricchi del mondo sono coloro che controllano l'essere umano per i loro interessi personali, c'è un mentre che non c'entra, nell'età del loro sono coloro che elevano l'essere umano a beneficio dell'intera società. È chiaro? Avete domande e considerazioni? Perché attualmente, nell'età del ferro, gli uomini più ricchi del mondo sono proprietari di aziende tecnologiche? Perché la tecnologia ha il dominio su di noi oggi. Per non parlare poi di chi sta dietro questa azienda e poi ci possiamo elevare a altri personaggi che non conosciamo, proprietari di industrie, banche, governi, insomma, chi controlla, chi controlla, chi possiede i governi, chi possiede le banche, che poi sono poche persone. Si dice che sono 300 persone nel mondo che in realtà hanno tutto in mano e loro hanno agito per il controllo e quindi hanno creato tutto basato sul controllo. Cioè non è che se tu vai in banca ti fanno educazione finanziaria, non è che a scuola ti dicono chi sei, non è che in televisione parlano di amore, quindi è tutto un sistema basato in realtà sul controllo. Metrix Voi quando non sapete cosa fare, guardatevi Metrix. Chi è che non ha visto Metrix? Walter? Cristina? Ogni metodo utilizzato nell'età del ferro per arricchirsi è destinato a morire. E qui vi parla il vostro profeta. Al contrario, chi si arricchisce secondo la legge dell'amore, nell'età dell'oro, avrà ricchezza in eterno. Quali sono i metodi nell'età del ferro? Mi viene in mente che creo un prodotto sottopagando la gente, un prodotto magari alimentare, che in realtà non ci serve una beata M, e che per fare quel prodotto metto in una fabbrica migliaia di persone. Ci sono tanti prodotti così. Ovviamente tutto è funzionale, perché anche chi lavora in fabbrica deve fare quell'esperienza per conoscere se stesso, giusto? Perfetto. Ma sappiate che se voi pensate di diventare ricchi perché avete capito che essere ricchi è importante, sottomettendo qualcun altro sappiate che quella roba funziona per poco, poi non funziona più. Io non potrei mai farlo. Io, per esempio, penso che mi sentirei a disagio ad avere la donna delle pulizie. Ho saputo domenica e hai una domanda? No, stai giocando con le manine. Tantissimi lavori. Allora, a parte le grandi industrie, le grandi fabbriche che ci sono, domani non ci saranno più, ovviamente. È un discorso anche di atteggiamento, nel senso che se tu hai un bar e hai dei dipendenti, tu puoi avere un bar nell'età del ferro e un bar nell'età dell'oro. Quindi magari nell'età del ferro tu vai a sottomettere i tuoi dipendenti, facendoli sentire inferiori, no? Oppure puoi avere un bar nell'età dell'oro, dove tu elevi i tuoi dipendenti. Cioè, non è che esistono dei settori dell'età dell'oro e dei settori nell'età del ferro. È un discorso legato all'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti degli altri. Poi potremmo dire che magari l'80% dei prodotti in questo momento in circolazione non servono. Io, questa è una mia teoria, questa è una mia teoria, Secondo me l'80% dei prodotti che ci sono oggi non servono. Cioè non servono a star bene. Però ci sono. Cioè vi servono le merendine del mulino bianco? A cosa servono? A chi servono? A nessuno. Non servono alla salute, non servono all'evoluzione, non servono a niente. Non servono a niente. Anzi, anzi, rallentano l'evoluzione. Perché dentro hanno lo zucchero bianco, perché c'è la farina raffinata. La gente è contenta di avere un lavoro in quella fabbrica, perché almeno ha uno stipendio, no? Quindi in realtà non ha nulla a che vedere con l'età dell'oro. Quello è un esempio come tantissimi, ok? Detto questo, è sempre tenere bene a mente che è tutto perfetto. Cioè non è che se domani noi vediamo la fabbrica del mulino bianco andiamo a protestare, non è quella roba lì. È una presa di coscienza la nostra, che è diverso. Ok? Infatti voi vedrete che più fate un'evoluzione, meno userete certi prodotti, certi servizi, no? Userete prodotti più naturali e diciamo prodotti e servizi che sono stati creati con dei metodi più in armonia con l'ambiente, col mondo, con gli esseri umani, con la natura. Questa è la direzione dove noi vogliamo andare, no? creare prodotti e servizi in armonia con la natura e gli esseri umani. Cioè per fare questo prodotto meraviglioso devo rovinare la natura? Non lo faccio. per creare questo prodotto meraviglioso devo sottomettere gli altri? Non lo faccio. Ecco perché tutte queste industrie sono destinate a morire. Perché noi siamo sempre di più, ci stiamo evolvendo sempre di più e non sceglieremo più certi prodotti e certi servizi. Perché l'amore e il denaro sono estremamente connessi? Più un individuo ama se stesso meno scenderà a compromessi per guadagnare denaro. Meno un individuo ama se stesso più scenderà a compromessi pur di guadagnare denaro. Se io mi amo non accetto di farmi trattare male da un cliente o da un datore di lavoro. Eh, se no è però come mangi. E sai, io ho scoperto che mangio e anche di più. Non sottomettendomi. Appunto. L'ho fatta questa esperienza. Mammina, la paura mi ha fatto fare delle esperienze con certe persone che veramente Dio ce ne scampi. Però di là ho capito che non mi amavo per nulla. E ho cominciato ad allontanare e a rifiutare. E ho visto che mangiavo lo stesso. Quindi quella paura era infondata. Assolutamente infondata. oggi lo lavoro dove mi fa piacere lavorare. Esattamente. E non mi manca nulla. Quindi vedi tu a volte la paura a che cosa ci porta. A fare delle cose contro noi stessi senza significato. Certo. Ma infatti il fatto del è però come mangio è una scusa che l'ego si dà perché in realtà ha la necessità inconsapevolmente di fare di fare quell'esperienza e di farsi trattare male ma perché non ama se stesso. L'anima non sa chi è in quel momento. Diciamo che qui già poi insomma ci sono situazioni tutte diverse cioè quello che fa il dipendente ma è più libero di un altro che fa il dipendente meno libero chi fa l'imprenditore ma è più schiavo del dipendente insomma ci sono poi tantissime situazioni e poi lì sta in base alla vostra coscienza ragazzi magari io se facessi lavori che fate la maggior parte di voi non resisterei cinque minuti e invece voi avete ancora bisogno di fare quell'esperienza ok quindi dipende sempre poi dal livello di amor proprio che noi abbiamo una cosa io ve la devo dire voi meritate il meglio del meglio del meglio del meglio del meglio grazie perché siete amore questa cosa io ve la devo dire poi ognuno fa come meglio crede però almeno qualcuno vi deve dire questa cosa qua il problema dunque non è cosa fare o non fare per avere più ricchezza quanta gente vede